Ciao amici! Il grasso sulla pancia per molti è il più ostinato da eliminare. E sapete perché? Perché è una maledizione! Il corpo dimagrisce nell'ordine inverso di come ingrassa e siccome la pancia è il primo posto dove si accumula adipe, è anche l'ultimo da cui il corpo brucia i grassi. Vedi che è una maledizione! In ogni caso ho qui una soluzione. Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Il primo alimento è la mandorla. Tutti grassi buoni, monoinsaturi, riducono l'appetito e aumentano la sazietà. Poi ananas. A zero grassi, pochissime calorie, carboidrati, vitamina C, enzimi digestivi, un perfetto dessert light. Il nostro classico carciofo, ha poteri detox e diuretici, elimina quindi liquidi e tossine, causa di peso e gonfiore. I saporiti e preziosi asparagi. Contengono inulina, una fibra alimentare saziante e abbassano la glicemia. Il ricco avocado è ipocalorico ma super nutriente grazie a vitamine e acidi grassi insaturi che aiutano a dimagrire. Il profumato basilico. Il basilico riduce l'ormone dello stress, il cortisolo, noto per far ingrassare. Il top nelle diete, limone. È dimostrato, bere acqua tiepida e limone al mattino stimola il metabolismo. Il superidratante, cetriolo. Potente diuretico, antiossidante, ha poche calorie ma è molto nutriente. Gli spinaci. La clorofilla degli spinaci riduce la fame nervosa del 95% e fa dimagrire del 43% più in fretta. E 10. La barbabietola. Cruda, negli estratti, tiene bassa la glicemia e la pressione del sangue. Mangiando questi 10 cibi ogni giorno a rotazione è possibile sostenere il metabolismo e stimolare il potere bruciagrassi del corpo. Per dimagrire i punti difficili, il segreto è la costanza nel mantenere abitudini alimentari sane e dimagranti come queste. Ed eccolo il regalino di oggi, il PDF. lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali. Grazie. 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 Grazie.